Sono molto orgogliosa di questo Sono molto orgoglioso Roma La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovevamo essere poche decine, contatevi, domani i giornali diranno che eravamo 300 forse. Contatevi, vediamo se sappiamo ancora contare. Il tetto di Messina, non si tocca Calabria, Sicilia, unite nella lotta. Grazie a tutti. E questo non è il mio sviluppo che vogliamo, che passa da una parte attraverso la costruzione di lager, dall'altra attraverso la costruzione di pietre tombali, appunto il ponte sullo stretto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. con l'offerta di posti di lavoro, non ci crediamo! Grazie a tutti! A nome della rete Nobonte! Abbiamo condiviso tutte le battaglie che riteniamo avessero la dignità di averla questa condivisione, potremmo citare dalle carcerazioni ingiuste, alla lotta alla casa, alla solidarietà contro il razzismo nei confronti dei migranti e tante altre battaglie. Oggi noi vorremmo in qualche modo condividere questo momento come nel corteo si è rappresentato con la lotta degli operai dell'Inse. Al telefono abbiamo il compagno Signoriello, ha in linea uno degli operai che stanno sulla gru. Io proverei a vedere se riusciamo ad amplificare questo contatto. Proviamoci! Vincenzo, io ti passo la linea. Ok, stai parlando alla piazza. Vai! Pronto? C'hai qualcos'altro a dirci? Ci siamo in tanti qua! Pronto? C'hai qualcos'altro a dirci? Ci siamo in tanti qua! 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 Allora...